buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo qui al fifa pronostico del derby della mole torino contro juventus andiamo subito a vedere la gestione della squadra perché ovviamente dovremmo fare dei cambi secondo me questo è il tridente ma ovviamente cambierà molto a livello difensivo perché non c'è cansello quindi mettiamo ovviamente desciglio perché a mio giocherà lui non c'è bentancur squalificato ed è già qua perfetto non c'è quadrato non ci sarà quadrato perché infortunato mettiamo spinazzola e scegliamo insomma il nostro modulo non ci sarà secondo me neanche che dirà anzi secondo me non c'è perché ancora infortunato dentro mettiamo emre chan vediamo chi mi può servire mi può servire più che ken quindi va bene così quindi questa è la formazione che più o meno mister allegri metterà nel derby quindi scesni in porta bonucci chiellini alexandro de sciglio pianic ma 2dm re chan ronaldo manzukic e dibala questa più o meno la formazione credo che verrà inserita chiaramente non c'è lo stadio olimpico grande ufficio torino ufficiale quindi giocheremo a quello che non lo so che moto dromo o dromo credo che si chiami va bene così e iniziamo adesso dunque bellissimo l'effetto comunque giocare il derby a fifa 19 per me che ero abituato a usare il 16 per xbox 360 è veramente un altro effetto vediamo io che tra l'altro in coppa ha perso quello young boys sconfitte in dolore ma che comunque statisticamente c'è stata e non è mai bello perdere attenzione posizione regolare per soriano ottima la lettura del difensore che ha capito una chiusura qua della juve alexandro pianic cr7 vede manzukic it so ha capito tutto bella questa azione del torino che porta il pallone però abbondantemente sul fondo ma hanno fatto una buona azione torino di mazzarri che domenica ha bloccato il minan e che sta facendo un campionato eccezionale forse uno dei juve toro o toro juve che che dice comunque cambia poco una sfida delle due squadre così in alto non veramente non accadeva da tantissimo tempo di bala dentro per ronaldo anticipato il pallone arriva poi a blaze matuidi che si gira matuidi tiro di matuidi c'è un ottima chiusura il pallone che arriva a ronaldo che riesce a girare per il pallone verso manzukic anticipato al vento del difensore che spazza via tesciglio di cattiveria ha deviato il pallone però non ha guadagnato di messa trale l'ho convinto della mia mamma mia stavo prendendo un pallone che sarebbe stato pesante pianic chiellini alexandro matuidi manzukic bravissimo qua a far girare il pallone a darla a desciglio zona croce desciglio appoggio per di bala di bala ancora di bala cross in mezzo matuidi la palla rimane incredibilmente lì non ci credo ma che roba è quella roba palla che è rimasta in una zona ingiocabile tra l'altro manzukic pianic ronaldo ronaldo vince il contrasto poi il pallone in mezzo verso manzukic poi emre chan nella gran parata di siri primo tiro in porta poi manzukic come al solito va giù non proprio per il sottile gran parata di siri con questo tiro di emre chan attenzione soprattutto nel gioco palla a terra che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato zazza zazza neite continuano a girare palla cercando il momento giusto lancio fuori misura palla recuperato pianici poi fallo su pianici infatti si ripartirà dunque col calcio di posizione per la juve chiellini per alexandro alexandro matuidi manzukic scambio della juve che libera de sciglio bisogna tiro per de sciglio finta di de sciglio poi fermato riesce a guadagnare comunque rimessa laterale emre chan emre chan deciglio ancora cross in mezzo matuidi troppo lontano dalla porta è un regalo per salvatore siri 35esimo 0-0 partita bloccata hai traccettato bene il passaggio un derby in tutto e per tutto tra l'olimpico grande torino che devo essere sincero anche quando giocava da juve non ho mai amato come stadio c'è sempre stato qualcosa che mi ha frenato questo stadio qua non ho mai reputato uno stadio da juve di bala anche perché molto piccolo eh potrebbe crossare crossa verso il centro de sciglio pallone male lì matuidi non è lesto prendere questo pallone allora la palla adesso gli arriva matuidi matuidi vede l'inserimento di di bala di bala di bala di bala siri cosa ha sbagliato di bala ragazzi occasionissimo per di bala sprecata eh e adesso il toro prova a farsi vedere in avanti ancora matuidi migliore in campo probabilmente breves matuidi finisce primo tempo 0-0 con di bala che si è mangiato il gol dell'1 a 0 proprio sul finale inizia un secondo tempo per il secondo tempo derby fin qui in assoluto equilibrio come dimostra anche il punteggio sarà fondamentale l'approccio delle due squadre alla ripresa i primi minuti matuidi in particolare potrebbero fare la differenza matuidi emreciano emreciano apre per di bala di bala di bala finta ancora di bala ha fermato di bala non c'è proprio sai che toglierò lo toglierò tra poco ronaldo tiene il pallone bravissimo ronaldo pianici ancora per di bala che sterza riesce a buttarla in mezzo non è male anticipato all'ultimo manzukic da de silvestri buona occasione attenzione al cross in mezzo adesso verso ronaldo anticipato l'intervento del difensore che spazza via ancora juve che tiene alto il pallone con ancora miralen pjanic che rientra miralen pjanic gira emreciano emreciano gira per di bala ancora è ancora di bala fermato momento giusto pallo di chiellini vediamo se l'arbitro estrae il cartellino giallo per chiellini eccolo il giallo per chiellini direttore di gara che ferma giustamente il gioco questa onentata 55 sul cronometro lo hanno visto tutti troppo evidente sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto ronaldo ah pala che non è passata pala che non passa eh niente adesso due palloni buttati a caso davanti sbagliando cosa che odio quando buttino avanti il pallone così eh bella azione del Torino buona però fase difensiva adesso Blaise ma tre di prova a mettere ordine gran palla per pjanic pjanic ancora pjanic prova nell'inserimento benissimo in profondità per daglas costa che è scattato daglas costa daglas costa daglas costa il miracolo di un cu che la mette in angolo questa era un'ottima occasione calcio ad angolo invece è battuto veramente veramente male libera di testa al lato Ronaldo Ronaldo esagera il recupero del Torino bella questa palla ancora per costa costa tiene il pallone costa costetto ad allargare per pjanic poi Ronaldo ancora fermato e palla sparata su meite fuori gioco di Belotti proviamo a togliere Mario Mandzukic che non mi sembra in grande partita oggi me lo danno in forma ma oggettivamente non ha fatto granché mettiamo Fede Bernardeschi anche perché non è che ho altri cambi un quadrato fuori allora così non ho più saltatori ma vado più su un gioco a terra con il Toro che dovrebbe essere abbastanza stanco adesso pjanic lo sto tenendo comunque in gioco io il Toro nel senso che ho sbagliato dei gol abbastanza evidenti bravissimo De Sciglio ancora De Sciglio che ha giocato il tiro rete la Juventus è in vantaggio ha segnato Emre Can con una magia di De Sciglio 1-2 bellissimo ed Emre Can al 74esimo fa crollare il muro granata grande giocata qua in due fantastica il gol di Emre Can sarebbe bellissimo se veramente segnasse lui nella realtà vorrebbe dire tantissimo dopo quello che è passato il derby che stava diventando molto scomodo non è finita perché il Toro adesso prova ovviamente a rimettersi in partita Matuidi che partita ha fatto Matuidi poi il pallone ancora della Juve con Ronaldo Ronaldo prova a tenere il pallone gran giocato di Ronaldo che poi è larga per Douglas Costa attenzione a Douglas Costa è fresco Douglas Costa arriva il pallone in mezzo Bernardeschi è lungo il pallone di Costa ha sbagliato il passaggio da Gras Costa poteva essere il gol il gol che chiudeva il derby io coinvolgo Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara mancano ancora dieci minuti allo scoccare del novantesimo bene Matteo per ora può passare bravo a passare da dietro però in posizione regolare gran giocata di Belotti Bonucci che chiude Matuidi sempre il pallone mai sbagliato Cristiano Ronaldo ancora da Gras Costa che ha spaccato la partita a metà da Gras Costa da Gras Costa c'ha Sirigu davanti ottima chiusura di Emiliano Moretti ha rallentato troppo da Gras Costa e ora il toro che prova di nuovo Chiellini Chiellini sempre preciso negli interventi Moretti Matteo bordo campo quanti minuti ci separano dal fisco finale appena 120 secondi ci dividono dal novantesimo ottima chiusura ancora di De Sciglio da Gras Costa Ronaldo la tiene sbagliando però potrà gestirla meglio questa palla Ronaldo attenzione alla Juve no Bernardeschi che errore ma finisce qui finisce qui la Juve vince il derby 1 a 0 decide la rete di Emre Can una partita molto molto complicata e alla fine Emre Can che la chiude finisce dunque 1 a 0 e finisce qua quindi questo mio video appuntamento con i prossimi appuntamenti del canale show la Juve la Juve la Juve Grazie.